Ciao 3D, siete su Skype in the Bull, puntata speciale sui stablecoin che stanno perdendo il peg e cosa abbastanza incredibile, vedete la fila davanti alla banca Silicon Valley Bank per cercare di prendere i soldi, la fila, cioè non è Grecia, non è Grecia e incredibile, incredibile, First Republic, vedi? stanno cercando di tirare fuori i soldi e vediamo queste file incredibili qua ne parliamo bene, appunto su solo 24 ore valuta digitale, startup, credito, gli effetti del crack di Silicon Valley Bank dopo il crack della banca si vedono le prime conseguenze la valuta digitale USD Coin, quindi USDC, perde la gancia a dollaro e le startup restano senza stipendi perché questa è una banca gigantesca, si parla di tanti miliardi, una banca super gigantesca e appunto ha dei problemi, ne parliamo dopo e cerchiamo di capire perché USDC ha perso il peg dopo la sigla allora da tanto che vi parlo dei problemi del mondo crypto da quando poi ho iniziato a fare diciamo le copertine verdi legate agli scam eccetera eccetera ma qua parliamo, qua diciamo sono gli effetti, secondo me partono già da Luna quando Luna, l'implosione di Luna che dava il 19% così bastava comprare Luna ed eri a posto quindi non sostenibile, prima schermo a Ponzi e le conseguenze secondo me le abbiamo ancora adesso quindi poi dopo abbiamo avuto FTT, quindi FTX che appunto sappiamo tutti cosa ha combinato, se non lo sapete andate a vedere i video copertina verde e non solo, ne ho parlato ampiamente nella copertina di analisi tecnica vedete ancora che c'è la sua testa con FTX e la merda sopra proprio perché sul fatto che lui raccoglieva i soldi e invece di sfruttare i calci di rigore che ha grazie alla possibilità di poter avere un exchange se hai un exchange è un calcio di rigore incredibile, cioè tu sai dove sono tutti i livelli tu puoi crearti le coin e tu sai qualsiasi cosa insomma è estremamente facile cioè è quasi estremamente facile poter fare trading avendo tu l'exchange ma se hai poi delle persone che fanno trading come quelle che mi ha visto come Carolina che riescono a buttare via i miliardi quindi in pratica uno stop loss leverage a non finire scam infiniti ti tieni i soldi e i soldi dei clienti li dai ai politici insomma si è visto che fine fa quindi che succede? allora qua c'è USDC che sta perdendo il PEG perché ha perso il PEG? quindi non usiamo più 1 a 1 deve essere legato al dollaro 1 a 1 ovviamente USDC cosa ci diceva? che era il miglior stablecoin in esistente perché? perché lui aveva finalmente 1 a 1 in dollari quindi ogni dollaro, ogni USDC era backed quindi dietro c'era un dollaro reale ovviamente è una cagata qualsiasi stablecoin abbiamo visto che insomma lo dicono tutti ma sono tutte cagate noi non ci fidiamo e quindi infatti è molto fuori che in realtà ha il 25% cash dove era quel 25% cash? era indovina in Silicon Valley Bank incredibile, uno schifo assurdo il 25% ce l'aveva nella Silicon Valley Bank e Silicon Valley Bank che ti dava l'8% o quel che era ti dava una percentuale, ti dava degli interessi e quel che era ovviamente non era sostenibile la cosa interessante però è che Silicon Valley Bank proprio nella Silicon Valley investiva tante negli start up quindi gli start up, ci sono un sacco di società che investivano e che ricevevano i soldi della Silicon Valley Bank che appunto riceveva i suoi soldi dall'investitore cui voleva dare indietro un interesse in cambio dava dei soldi agli start up per poter poi puntare sul fatto che loro poi potessero crescere ridare indietro i soldi e quindi insomma era tutta una ruota che girava il problema è grave perché Silicon Valley Bank diceva bene noi ti diamo i soldi ma devi portare tutto tutte le tue movimentazioni devono stare dalla nostra banca e adesso che Silicon Valley Bank rischia di caput, di finire a cascata, ragazzi, a cascata ci sono tutte queste nuove società che hanno preso soldi dalla Silicon Valley Bank che non avranno più nulla ok? la gente è disperata cioè guardate qua, questa non è la Grecia ragazzi questa non è la Grecia file davanti alla banca per prendere i soldi ma niente, niente e questo signore qua gli hanno chiesto se cioè due giorni prima dell'impolosione della Silicon Valley Bank gli hanno chiesto ma secondo te aver alzato i tassi così tanto porteranno ad implodere a implodere delle banche? e lui ha risposto no, assolutamente no ovviamente due giorni dopo sì ma sappiamo tutti che insomma alzare i tassi così velocemente e così alti ovviamente serve per l'inflazione ma serve perché distruggerà l'economia facendo sì che la gente non ha i soldi per poter comprare le cose quindi l'inflazione per forza di cose scenderà quindi matematicamente l'inflazione scenderà su questo non c'è nessun dubbio ma ovviamente implicando chiusure di banche eccetera eccetera quindi che cosa possiamo fare anche nel mondo reale perché adesso ricordiamoci l'America non è ancora in recessione tecnicamente non è ancora in recessione e stiamo già iniziando a avere l'implosione fra l'altro questo riguarda sia le cripto che non come si chiama sta banca ecco Silicon Valley Bank riguarda sia il mondo cripto che non ok mondo cripto perché è legato allo stable coin USDC ma anche non perché appunto ci sono società quotate al Nasdaq e non che hanno chiesto i soldi che per poter avere quei soldi hanno spostato tutto nella loro banca e in cambio stanno ricevendo uno schiaffo totale quindi probabilmente rischiano di chiudere a cascata e non siamo ancora in recessione quindi figuriamoci cosa potrà andare a accadere e quindi per questo secondo me tutto parte da l'una poi l'altra botta di FTT quindi FTX da FTX vi ho detto ragazzi tenete su Binance solo i soldi che vi servono per fortuna però Binance ha fatto una cosa intelligente ve l'ho parlato ultimamente a Casa Bull e non solo anche nel video di analisi tecnica fra l'altro vi ricordo mettete il like a questo video anche se non è un video di analisi tecnica è una puntata speciale ma comunque ricordati di mettere i like è gratis e in questo video oltre a essere gratis non ha neanche le pubblicità come tutti i video della Bull Family zero pubblicità come dicevo l'altro giorno zero possibilità che quel rialzo che abbiamo visto ultimamente potesse essere sostenibile ok? zero possibilità perché appunto questo signore lo sa bene che alzare i tassi così alti fa sì che la gente non abbia se non ha soldi farà implodere e perde il lavoro a tanta gente e quindi vedremo la recessione cosa che non c'è ancora quindi il peggio deve ancora arrivare detto ciò aspettiamo sempre le conformazioni come abbiamo sempre detto cosa accade con Boost? quindi Boost invece ha fatto una cosa molto intelligente ok? perché CZ di cui non ci fidiamo perché noi non ci dobbiamo fidare di nessuno come non ci dobbiamo fidare di Parmalat come non ci siamo fidati di Beyond vabbè storie che magari non conoscete Parmalat probabilmente avete sentito parlare però insomma che falsificava i dati quindi non è solo il mondo cripto ok? il mondo azionario ne ha visti e ne vedrà all'infinito quindi mondo azionario di cagata ne hanno fatto in infinità mondo cripto ne hanno fatto in infinità per 10 la DeFi il 99% DeFi è una cagata pazzesca sono tutte truffe eccetera eccetera cose non sostenibili l'1% magari c'è di sostenibile magari rimarrà in piedi ma il 99% ragazzi sparirà detto ciò ecco CZ cosa ha fatto? CZ ha fatto una cosa intelligente perché il punto debole di Binance era lo stablecoin perché appunto bastava perdere la peg e sappiamo benissimo che neanche boost è backed quindi dietro ogni boost c'è un dollaro reale non ci crede nessuno non accadrà mai è impossibile e quindi CZ ha detto ma tanto a noi che ci frega non è nostro è di un'altra società quindi se Binance se ne va allora stiamo parlando di boost perché qua azioni no good no good azioni qua ecco boost siamo andiamo a vedere il daily siamo a meno 0,5% quindi ho perso poco invece USDC siamo a meno 5% ok era andato addirittura a meno 12% siamo a meno 5% ovviamente è più grave ma boost non c'entra più con Binance ragazzi non c'entra più con Binance l'ho spiegato tante volte CZ ha fatto una mossa intelligente ha detto bene il punto debole nostro è boost sono i boost bene non è roba nostra di qualcun altro quindi non ce ne frega noi di Binance non vogliamo lo stablecoin quindi semplicemente basta non è nostro chi se ne frega vi ricordo una cosa molto semplice ma interessante BNB adesso vale quanto vale 274 dollari anche se dovesse scendere a 10 dollari quanto voleva 40 quando valeva 10 ecco qua 10 dollari anche se dovesse scendere a 10 dollari se non ha problemi con stablecoin non è un problema cioè se la gente non ritira i soldi BNB guadagna uguale anche se vale 10 non ha non ha un problema di implosione ha un problema di implosione se promette degli interessi o ha un qualcosa di non sostenibile esplode oppure fa come FTX dove il nostro CZ non è onesto e i soldi che noi abbiamo messo lì lui li sta usando per corrompere i politici o per comprare le sue cose o per aderire a guerre o per fare qualsiasi cosa ma che non sia gestire un exchange ok in quel caso ovviamente chiuderà anche Binance ma altrimenti non è un problema insomma potete immaginare quanti soldi fa con Fee Binance ne fa una marea l'exchange più grande che c'è nel mondo cripto fa una marea di soldi in più se un exchange viene gestito bene se qualche exchange vuole venire in antena da Bull Family vi insegniamo noi come gestire un exchange perché è un calcio di rigore in continuo cioè è veramente qualcosa di clamoroso quindi se smettessero di fare cose che non hanno nessun senso con l'exchange è un business pazzesco quindi anche se dovesse scendere a 10 non avendo uno stable coin e se lui non sta facendo troppo il delinquente perché sicuramente il delinquente l'avrà fatto per diventare l'exchange più grande del mondo qualche cagata l'avrà fatto sicuramente la mano su fuoco io non lo metto non so voi ma non fatelo insomma però insomma a meno non ha più discorso boost boost non è suo quindi chi se ne frega noi dove li mettiamo io ce li ho in USDT ve l'avevo detto di mettere un alert a meno 1% io comunque li avevo già spostati in USDT la mia size da 10.000 massimo 20.000 è sceso a 5.000 e ah ma chi se ne frega ho quelli che se domani non c'è più Binance chi se ne frega ok detto ciò tanto a noi interessa voi che entrate interessa imparare a fare trading basta mettere 50 dollari se li perdete chi se ne frega sono 50 dollari ok se avete di più per adesso teneteli in USDT se avete tanti soldi perché appunto le volete comunque tenere lì non le volete spostare volete comunque fare investimenti grossi eccetera eccetera bene mettete in questo periodo qua di turbolenza indovinate che bisogna fare quando abbiamo Bitcoin in una situazione di turbolenza quindi col daily messo male in cui possiamo avere candele grosse eccetera ci sono implosioni cose varie ragazzi basta un attimo in un attimo li spostate da USDT a euro USDT a dollari veri non USDT cioè non stablecoin li posate direttamente su Fiat ok spostate su Fiat non c'è problema non c'è problema se Binance non fallisce se fallisce pure Binance ragazzi vabbè amen quindi io comunque vi consiglio di tenere quelli che non vi interessano ok aspettate questo periodo qua aspettiamo che l'America vada in recessione aspettiamo che attenzione poi ne parlerò a Casa Bull ne parlerò negli altri video non è che bisogna aspettare semplicemente che la Fed quindi che questo signore smetta di alzare i tassi quindi dici ok appena inizia a abbassare i tassi prima volta che abbassi i tassi io inizio a comprare no non funziona così ragazzi non funziona così perché quando lui inizierà a abbassare i tassi li inizierà a abbassare perché l'economia sarà fortemente in recessione e dopo lì avremo tre sei addirittura forse nove mesi di tempo in cui avremo dei dati societari terribili ragazzi avremo dei dati societari assolutamente terribili quindi non dovete cercare di non dovete avere fretta con calma con calma ok poi guardate i video di analisi tecnica mettete in like piano piano vi lo dirò io ok quando potete iniziare ok se proprio proprio avete fretta oppure non volete studiare non volete seguite casa bull seguite video di analisi tecnica e ve lo dirò io con calma questo non è il momento ok quindi con calma relax detto ciò silver gate allora andiamo a vedere andiamo a leggere un po' di ah si giusto poi c'era anche silver gate appunto c'era silver gate che è andato in crisi subito dopo adesso è andato cioè è una catena ok e appunto nasce come vi dicevo da luna quello che prometteva di più poi ci sono tutti quella dei file che promettevano addirittura fino al 90 mila per cento ragazzi no impantanatevi in sta roba qua con calma ok senza fretta e come dovete gestirvi adesso ah fra l'altro c'era una domanda che ho preso velocemente adesso in chat eddy grande eddy dalla sardegna bull è una domanda ha ancora senso usare il doppio book adesso che boost sta perdendo il peg e i livelli non corrispondono più certamente il doppio book è fantastico ragazzi ovviamente ci sarà non ci sarà più lo stesso livello perché c'è uno 0,5% adesso boost se usate boost c'è lo 0,5% di differenza ma il muro lo vedi uguale non è che non lo vedi ok cioè ci sarà un prezzo diverso che ne so ci sarà a 1 magari in usdt troverai un muro e magari a 1 0,05% quindi lo 0,5% in più e troverete magari un altro muro che è quello in boost ok quindi magari non c'è in usdt ma lo trovate lì ma è lo stesso prezzo ok tanto voi vedete voi guardate semplicemente i livelli nel book i livelli nel book sono orizzontali sì paralleli sono paralleli quindi allo stesso livello vedrete due prezzi diversi ma i livelli se vedete un livello grande in boost anche se è un prezzo più alto perché c'è questo spread diciamo questo scostamento dello 0,5% quello è sempre un livello che deve spostare che deve che deve mangiare per poterlo superare ok quindi comunque il doppio book è sempre fondamentale non cambia niente semplicemente cambia un po' i prezzi ma i livelli essendo paralleli voi comunque a colpo d'occhio capite il livello ok anche se il prezzo dovesse spostarsi di un 5% il doppio book è sempre utile perché vedrai comunque in boost dei muri ok ovviamente volumi permettendo per adesso i volumi insomma ci sono ancora quindi i livelli si vedono ho guardato prima insomma si vedono anche se siamo nei weekend quindi cosa dovete fare allora per quanto riguarda Binance per adesso non ci sono problemi perché non ha boost quindi se boost anche dovesse perdere ancora più il peg perché adesso fa ridere questo 0,5% ma dovesse perdere del 5% del 10% ragazzi Binance non è più legato a boost sto perdendo sto perdendo il microfono ecco non è più legato a boost quindi chi se ne frega ovviamente quando l'importante è che non ci sia paura da parte della gente e tira via i soldi perché quello che può rovinare Binance è se la gente tira via i soldi se semplicemente Binance scende come avete visto adesso sta scendendo come è sceso Ethereum ecco BNB sta scendendo come è sceso Bitcoin come è sceso Ethereum è sceso anche BNB non c'è anche se ha perso il peg non ha avuto lo scammone dell'altra volta anzi addirittura è quello che graficamente sta tenendo anche un po' meglio e insomma non ha fatto quelle mega insomma non ha sofferto questo questo depegamento ok perché è una cosa si è spostata per adesso ha fatto questa mossa intelligente detto ciò vi ricordo un'altra cosa ecco anche per quello che riguarda l'economia reale nostro azionario eccetera ricordatevi questa cosa adesso in America appunto stanno dicendo ok Silvergate è una banca grande quindi figuriamoci tutte le altre banche piccole rischiano di implodere sì assolutamente rischiano di implodere in Italia che cosa abbiamo abbiamo visto nella storia tutte le banchette del quartierino che sono andate a fallire perché perché se una banca fa il suo mestiere semplicemente di raccogliere i soldi e prestarli nei mutui e con quei tassi lì dai una piccola percentuale indietro alle persone che hanno i soldi lasciati sul conto e quegli altri insomma se le prende fa utili è sostenibilissimo ok però purtroppo abbiamo visto che più è piccola banca più si aiutano gli amici degli amici si danno dei mutui senza garanzie e cose varie ed implodevano tutti quindi se noi sappiamo che stiamo per andare in una recessione pesante che cosa dobbiamo fare non dobbiamo avere i nostri soldi nelle banchette quelle piccoline ok in America stessa cosa in Italia stiamo su quelli più grandi voi sapete che io li tengo cioè Unicredit Intesa San Paolo Fineco punto degli altri non mi fido poi questi non possono implodere sì che possono implodere poi è vero che in teoria fino a 100.000 euro siamo coperti ma comunque anche questi tre possono implodere ma teoricamente se questi non sono dei farabutti sono quelli più potenti ok quindi se avete una banchetta del paesello è vero che fino a 100.000 euro in teoria siete coperti ma che ci vuole per spostare vostri soldi se ne avete sul conto spostatevi su uno di queste tre banche insomma quelle un po' più grandi quelle un po' più affidabili ok ho messo anche Fineco perché Fineco fa un sacco di soldi con il trading e quindi comunque è una società che in teoria si può sostenere anche se il mercato andrà a implodere ok quindi non riguarda questa cosa solo il mondo cripto ma anche il mondo reale ok con la Silicon Valley questa banca qua ha intaccato tantissime società reale quindi fate attenzione ok molto probabilmente avremo dei tempi durissimi e quindi bisogna fare attenzione a dove mettete i soldi per fare trading su Binance per adesso non c'è nessun problema ok l'importante è questo poi occhi aperti perché non ci vogliamo fidare di nessuno detto questo domani è casa Bull comunque risponderò alle altre domande però è giusto fare questo veloce video per potervi spiegare un po' ah poi ecco è venuto fuori il solito Musk a dire che ha aperto l'idea di comprare Silicon Valley Bank ragazzi non ci credo nessuno nel caso in cui dovesse farlo indovina cosa dovrebbe fare vendere ancora Tesla quindi avremo dei crolli pesantissimi di Tesla ma io non credo che lui si vada a mettere a fare questa roba qua tanto non si riesce mai a capire quando scrive qualcosa se è una cosa reale se è fuori di testa se si è fumata la canna non si capisce ok quindi comunque ha tratto fuori anche sta cavolata e detto ciò abbiamo detto tutto quello che dobbiamo fare ok e niente si perché abbiamo già detto occhio anche a Coinbase insomma dai ragazzi è un casino ok è un casino e seguite lui ok seguite tutto quello che lui dice sapete che vale l'esatto contrario ok quindi ogni volta che dice qualcosa vale l'esatto contrario bene detto ciò iscrivetevi a YouTube anzi vi ricordo vi ricordo di iscrivervi sempre cliccando i link che trovate per esempio sul nostro telegram ogni post che faccio fra l'altro avevo fatto un sondaggio per fare questo video no ha vinto l'88% con 1321 voti 1321 pazzesco in poche ore quando faccio i post vedete qua ci sono sempre i link i link link tree e qua trovate tutti i link mi raccomando scammatori non vedono l'ora di fregarvi quindi per far parte della family cliccate lì guarda che schifo di connessione che ho incredibile una schifezza pazzesca non ho ancora vergognoso ci metterò tre ore caricare sto video eccoci quindi cliccate tutti i link della family solo qua mi raccomando solo qua solo tramite il link ufficiale dal bull family ciao a tutti